Beh, diciamo che le belle persone rendono il mondo un posto migliore in cui vivere. Che cosa intendo per belle persone? Beh, intendo un concetto di bello un po' infantile, se vuoi. Sì, quello per cui i bambini c'è il bello, che sono le cose che fanno piacere, il brutto, che sono le cose che fanno male. Se vuoi è il concetto greco della bellezza, quindi l'eroe che è bello e buono, kalos, kai, agathos. Ecco, le belle persone sono quelle in cui rifulge una luce interiore al punto da irradiare anche i lineamenti, anche se i lineamenti sono normali. Sono le persone in grado di fare dei gesti belli, di altruismo. Sono tutto il contrario degli egoisti, dei ladri. Ecco, queste sono le belle persone che possono salvare il mondo.